Pazzione Eurovision 2022 a Torino a 24 ore dall'annuncio Edge a Boom di prenotazioni online cerchiamo quindi di capire quali ricadute economiche porterà alla città con Giampiero Amandola L'Euro Contest Song arriva come una spinta per il futuro di Torino che si aggiunge agli ATP Finals, alle Universiadi, agli storici Salone del Libro e del Gusto tutto aiuta a dimenticare di aver perso le Olimpiadi aggiudicate a Milano L'Euro Contest però è tanta roba dicono gli albergatori lo vedono già ora anche se si svolgerà a maggio Alla notizia abbiamo avuto un primo momento di prenotazioni selvagge non sappiamo dove possiamo arrivare il prossimo anno saranno 4 eventi internazionali molto importanti dal Libro al Gusto, dalle ATP all'Eurovision A Rotterdam nell'ultima edizione l'Eurovision Contest ha portato 100 milioni al territorio di cui si stima un 8 o 9 milioni di euro di spese alberghiere ed ora per Torino si parla di un arrivo di 90.000 persone alcune piattaforme di prenotazione online si avvicinano all'esaurimento delle camere a loro disposizione quindi eventi turismo nel futuro della città anche se, dicono gli imprenditori, occorre far ripartire la Torino industriale intanto usando gli eventi per rilanciare l'immagine della città nel mondo quindi Torino riposizionato come brand internazionale sugli schermi di tutta Europa e sia il turismo dell'Euro Contest e degli ATP Finals che l'industria hanno bisogno di una città collegata, globalizzata per questo lo sviluppo passa anche per le 24 nuove destinazioni aperte nell'aeroporto cittadino con l'investimento che sta facendo Ryanair con cui collaboreremo per avere sempre più attrazione turistica verso la nostra città e la nostra regione Grazie 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 Grazie